La giornata della svolta, quello di oggi, è un nuovo punto di partenza per la campagna vaccinale. Nel pomeriggio in tutta Italia alvia le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. E anche qui l'Ulssottoberica di Vicenza, nella sua sede vaccinale di Torri di Quartesolo, apre le porte ai più piccini. È una bella giornata, abbiamo più di 400 bambini prenotati oggi, che è la prima giornata, e anche le prossime due sedute della settimana prossima sono già full, con 600 prenotazioni. Tanto che oggi abbiamo ampliato la possibilità di prenotazione entro già fine dicembre, ampliando altre 2.000 disponibilità. Nuovi slot che andranno ad aggiungersi ai 1.800 posti a disposizione da oggi fino al 22 novembre. Ad accogliere le famiglie qui all'Ulssottoberica, un sistema operativo vaccinale che ha già garantito da un anno a questa parte criteri di sicurezza e standardizzazione. Sottolineo il grosso lavoro in rete che si sta facendo oggi qui con la nostra azienda, perché nei box vaccinali era l'accogliere l'anamnesi dei piccoli con le loro famiglie e trovano i pediatri di famiglia. Poi per tutto il resto il supporto della somministrazione, dell'attesa, dei percorsi, si innestano sul percorso vaccinale dei centri vaccinali di popolazione. E per strappare un sorriso ai bambini, i corridoi e la sala d'attesa del centro vaccinale si trasformano in un teatro di allegria. Palloncini, fiorellini, la spada per i maschietti, un po' di tutto dai, un po' di magia, un po' di sorrisi, un po' di scherzo.